Noi siamo presenti su tutte le materie di competenza della città metropolitana e anche più, ma queste iniziative servono per far conoscere alle persone il lavoro enorme che stiamo facendo. Oggi si parla di scuole, da quando sono sindaco della città metropolitana si è messo in campo il più imponente investimento pubblico sull'infrastruttura scolastica dal 1980 ad oggi, cioè dal dopo terremoto. Lo stiamo facendo con uno spirito di cooperazione con i consiglieri metropolitani, con tutta la macchina amministrativa per mettere in sicurezza gli edifici in cui studiano i nostri ragazzi, ma anche per fare opere che siano all'altezza delle sfide più tecnologiche e più avanzate.